In queste puntine croccanti è la marinata a dare un aroma fantastico. Non c'è da meravigliarsi dopo una lunga marinatura di miele al rosmarino. Buongiorno e benvenuti! Per la marinata mescolo bene mezzo cucchiaio di condimento bianco, due cucchiai d'olio d'arachidi e tre cucchiai di miele. Stacco due cucchiai di aghi di rosmarino e li taglio finemente. Pesto mezzo cucchiaino di miscela di grani di pepe exotic, li mescolo col rosmarino e li aggiungo alla marinata. Mescolo bene. Le puntine dovrebbero essere abbastanza grandi. Il peso di circa 250 grammi al pezzo sarebbe ideale. Per gli amanti della carne con molto appetito potete anche calcolare due puntine a testa. In questo caso dovreste aumentare anche la quantità della marinata. Spalmo la carne tutt'intorno con la marinata. Copro il contenitore e metto la carne a marinare in frigo per circa 12 ore. 30 minuti circa prima della preparazione tolgo la carne dal frigo. Sistemo al centro del forno una lastra da forno ricoperta con carta da forno e sulla quale appoggio una griglia. Scaldo il forno a 240 gradi. Salo la carne da entrambi i lati. La pongo sulla griglia calda e la griglio per circa 15 minuti. Per l'insalata di cavolfiori divido la verdura, ci mette. Le metto in acqua salata, bollente e le lesso per circa 4 minuti. Spalmo la carne con il resto della marinata. Scolo il cavolfiore. Dopo il primo quarto d'ora giro la carne. In una scodella mescolo bene il condimento bianco con l'olio di colza. Condisco con sale alle erbe e pepe. Aggiungo il cavolfiore scolato e mescolo con cura. Spengo il forno e lascio riposare la carne per circa 10 minuti. Tosso in una padella un cucchiaio di semi di lino. Coprite la padella, se no i semi rischiano di saltar fuori. Aggiungo i semi di lino tostati solo all'ultimo momento l'insalata. In questo modo rimangono belli croccanti. Servo le puntine glassate tolte dal forno con l'insalata di cavolfiore. Questa pietanza a base di carne è ideale per passare una serata piacevole con gli amici. Per oggi era tutto, grazie per averci seguito e a presto. Tra l'altro, anche la settimana prossima ci sarà un fantastico dessert. Mi farà piacere se sarete di nuovo con noi. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS